action dal vostro moriscripta come va amici allora noi tempo fa abbiamo fatto un video incredibile che ha avuto un sacco di successo lo vediamo subito eccolo qua iperversa la nuova truffa nel mondo cripto ok abbiamo ricevuto un sacco di insulti fantastico perché gli insulti indecizzano il canale allora però cosa abbiamo deciso di fare perché noi abbiamo contattato tantissime persone da notare 8.878 visualizzazioni chi più dice no ma guarda che tutto vero io ho guadagnato soldi vi ricordo che gli schemi ponzi per giusto per fare un piccolo riepilogo voi versate mille e ti danno ti danno il 10 per cento ti stanno restituendo i soldi ma non vi voglio condizionare quello che abbiamo cercato di fare noi in massima trasparenza per chi non l'avesse ancora visto vi consiglio di guardare questo video iperversa la nuova truffa nel mondo cripto perché noi lancieremo la prima sezione su tutte le truffe che ci sono nel mondo soprattutto nel mondo delle criptovalute lo so siamo gli unici preparatevi e faremo un sacco un sacco di nuovi iscritti nel canale ma abbiamo creato per la massima trasparenza questo format che tutti ah io sto guadagnando però nessuno che compila il format il format è molto semplice vi lascerò il link in descrizione ok è questo qua la tua verità la tua verità su ipervers e iperfund lo leggiamo assieme ok molti utenti hanno segnalato impossibilità di prelevare i fondi altri invece dicono che tutto funziona alla grande vogliamo fare chiarezza rispondi a questo sondaggio in modo onesto tra un paio di settimane pubblicheremo il risultato quindi noi già tra un paio di settimane una volta che abbiamo preso i vostri dati vi pubblicheremo le statistiche ok hai investito in iperverso iperfund o in qualsiasi progetto realizzato da Ryan Wu sì ho attivamente investito no non ho mai investito è fondamentale ovviamente considerate che questa azienda è una coscienza dipendente quindi molti dati fanno compilati da loro però 100.000 non è difficile averle però è più complicato dovete compilare questo formulario è semplicissimo richiede un minuto di tempo forse meno qual è la tua opinione reale su ipervers e iperfund seleziona più opzioni è un progetto trasparente al 100% i miei soldi sono al sicuro è un progetto legale ed autorizzo ad operare è un progetto ad alto rischio di perdita del capitale potrebbe da un momento all'altro chiudere è un progetto che ti permette di fare altissimi guadagni reali è un progetto che non chiuderà mai ho paura che perderò il mio investimento e qui inserite il vostro indirizzo email e inviate per chi magari pensa ci sono un sacco di canali youtube che hanno promosso questa azienda noi renderemo i dati pubblici in base ai dati che riceveremo tutti i canali youtube di italiani abbiamo tutti i nomi e cognomi il loro canale perché appena scoprirà per il mio la truffa i video verranno cancellati noi abbiamo salvato tutti quei video di questi personaggi che promuovevano questo pacchetto in maniera tale da ricordare chi sono i ciarlatani e chi non lo sono io non ci guadino niente a parlare bene o male di questa società ma è chiaro che quando una cosa come si dice in inglese is too good to be true non è vera e quindi è uno schema Ponzi comunque giusto perché non vi voglio condizionare se compilate questo modulo vi metto il link in descrizione vediamo se siete onesti perché molte persone non hanno il coraggio di ammettere che hanno già perso i soldi hanno versato anche alcuni 10.000 sappiate sono riuscito a prelevare 500 euro e sono convinti che sono ancora profitto perché vedono un numero virtuale nella piattaforma ma anyway compilate questo modulo e poi ne riparleremo nelle prossime settimane se non siete iscritti ancora al canale iscrivetevi attivate la campanella se vi fa piacere e vi auguro tutti una buona giornata dal vostro moriscripto mi raccomando compilate questo modulo perché faremo tante risate nelle prossime settimane bye bye dal vostro moriscripto